trotte apatiche che mangiano lente smith amber è la soluzione è uno spoon di smith e quindi qualità giapponese garantita da utilizzare a canna alta quando il pesce mangia negli strati superficiali la sua ampiezza ci permette di restare con uno 0 8 1 1 a galla e prendere quelle mangiate che spizzicano da utilizzare con canne molto molto sensibili e rapide